Bravo! Palla, poi impiazzato per l'1-0! Eccolo il vantaggio Juve! Con piazza, sul rippallo, su un pallone sporco! Trova l'acuto, trova il tocco vincente! Regala il sorriso a Nento e a Moluzzi! A cercare Alexandro, può fussare Maxi Pereira nel 1-1, Alexandro, ballone morbido sul dentro, a cercare il tocco per la di Alder! 2-0! 2-0! 2-0! Eccolo qui, il secondo squillo! Posizione regolare! E allora è festa grande! E allora c'è l'abrazzo! Il supporto in desperdizione! Insiste, non esiste il supporto in capel! Corredore esquerdo, armo a cruzamento, tiro a cruzamento, volszi, il calcalhar, magnifico! Stavamento! Sensacional! Que bonito è! A gol! Gariglia e Cardetta, tira Porto del Capel, salto e non è galeo, porto da Tonco, insiste il supporto in scarsa, ora è Emilio Di San... Oh, il supporto! Oh! 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 1-0 Juve, minuto 41, Juve in vantaggio! Questa volta cambia di bala, non va a calciare alla destra del... Inicialmente, se calhar non accreditò molto, che potrebbe essere isolato per la Manoa e questo ha condizionato il lancio. Il lancio del Montello è un grande gol per il colombiano colombiano! Spettacolare! Fredi Monteiro, fuori da grande area, molto spontaneo a dimostrare tutta la sua qualità tecnica, un lancio senza qualche possibilità di pesa per il guarda-rede di Argentina. Non marcò a poco Wilson eduardo, ora, Fredi Monteiro, fuori da grande area, da Sancti Sport, è un'applicato special a dare vantaggio al Sport. Non miro 4 minuti e mei a rispondere alle critiche di tutti, sono scolhati, sono scolhati e sono scolhati. Non miro, non miro, non miro, non miro, non miro, non miro. È scolhato, è scolhato, è scolhato. E come mai sapere se il amore mai divino, non miro, non miro, non miro, non miro. Non miro, non miro, non miro, non miro. Non miro, 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 non